Buongiorno ragazzi, come va? Spero tutto bene. Innanzitutto buona domenica a tutti e spero possiate passare una felice giornata in compagnia dei vostri amici e dei vostri parenti. E spero anche che possiate mangiare in abbondanza perché la domenica è essenzialmente fatta per quello. Detto questo, per cosa siamo qua oggi? Siamo qui con un ulteriore video news, come avrete potuto leggere dal titolo. Infatti è tempo di cambiamento, tempo di cambiamento per vari aspetti che adesso vi andrò a raccontare nel corso appunto di questo video. Prima di far ciò comunque volevo scusarmi per l'assenza di video per quanto riguarda questo giovedì ma sto avendo un problema di salute che mi dà difficoltà nel parlare. Infatti ho voluto evitare il giovedì di fare un video e anche oggi sto facendo abbastanza fatica a parlare. Detto questo possiamo cominciare con le news di questo video che spero guarderete molti perché è molto 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 importante. Ma prima di lanciare queste fantastiche notizie direi di mandare alla nostra fantastica sigla. Non nascondo che ultimamente ho avuto delle difficoltà per quanto riguarda il trovare delle idee per i video. L'avevo già detto anche nel mio scorso video dove vi chiedevo dei suggerimenti e grazie a voi ma anche grazie allo star lì a pensarci sui video mi sono venute tantissime idee che non vedo l'ora di proporvi. Tutto questo però ha un prezzo, come ho già detto nell'altro video le idee finiscono prima o poi e si devono comunque cercare in continuazione. Ecco perché 3 video settimana per i miei standard è troppo sia per motivi di idee sia per motivi di tempo. Infatti l'università mi sta portando via tantissimo tempo e non riesco più a star dietro i 3 video settimana. Ecco perché sono qui per cambiare la programmazione settimanale del canale Maltality. Avrete sempre 3 contenuti ma di natura diversa. Il primo il lunedì sera sarà una live dove io giocherò a dei giochi ma non è questo l'importante. Infatti sarà un modo per parlare tra di noi, scambiarci idee su anime e manga e videogiochi. Infatti ci sarà una chat libera dove potrete parlare ovviamente dei contenuti che tratta il mio canale. Per quanto riguarda invece i video i giorni settimanali saranno due, ovvero il mercoledì e la domenica. Infatti alle 14.30 sul mio canale uscirà un nuovo video che tratterà vari argomenti, che possa essere un videogioco a tema anime oppure una serie anime o manga. Delle recensioni e anche anime brutti visto come l'avete chiesto in molti. E chi lo sa che magari questo mercoledì non esca il primo episodio di anime brutti. Sarà comunque un esperimento e spero venga bene anche se ho parecchie idee per renderlo interessante. Detto questo spero che questo video vi sia piaciuto. Ho anche avuto modo di testare la luce, si vede. Non ho sugli occhiali appunto perché ci sarebbe un riflesso negli occhiali appunto della luce che sto usando ma non è un problema dato che a me gli occhiali servono da lontano e in casa praticamente non li uso. Era solo un'abitudine averli addosso mentre registravo. Detto questo il video si conclude qui. Spero vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate della nuova programmazione e mi raccomando le live del lunedì sera che saranno un modo per parlare tra di noi. Spero possiate partecipare in molti. Detto questo vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale, condividere i video con i vostri amici. Inoltre attivate la campanellina per stare sempre sintonizzati con le ultimissime novità del canale Maltality e passate per i miei social perché è molto molto importante anche quello. E noi ci rivediamo mercoledì col primo episodio di Anime Brutti. Bella ragazzi!